Ci ha lavorato tutta l'estate, anche durante la sua vacanza in Sardegna, Paolo Savona al documento che adesso ha preso la strada di Bruxelles e nel quale il Ministro per gli Affari Europei traccia un quadro su come cambiare l'Unione e renderla più forte ed equa. Un progetto ambizioso per l'economista che, nei concitati momenti in cui il governo gialloverde veniva alla luce, ha conquistato le prime pagine dei giornali per la sua controversa candidatura alla guida del Tesoro. In questo nuovo documento, che in nome del governo italiano tenterà di creare un gruppo di lavoro per presentare delle proposte prima delle elezioni europee di maggio, non si parla di un piano B e di uscita dall'euro. La valuta unica è definita indispensabile, ma non mancano le critiche al ruolo della Banca Centrale Europea e soprattutto alle istituzioni continentali, accusate di non perseguire pienamente gli scopi dei trattati. Crescita economica e piena occupazione sono i due obiettivi principali del documento nell'ambito della ricerca del bene comune o, come viene definito utilizzando un grecismo, una politeiea per un'Europa diversa. Si punta quindi il dito sulla necessità di una politica fiscale unitaria. La sua assenza non permetterebbe di risolvere i problemi dell'immigrazione e inclinerebbe la stabilità dell'euro, come nel caso dei paesi in surplus commerciale e il caso della Germania, che finirebbero per danneggiare gli altri Stati membri. Critiche anche ai tanti vincoli di bilancio che comprimono redditi e occupazione e che spingerebbero gli Stati membri a chiudersi in quella che è definita un'assurda difesa della sovranità nazionale. Infine, la necessità politica di trovare una soluzione per assorbire i debiti pubblici troppo elevati come quello dell'Italia. Simone Spina, Sky TG24